gentili telespettatori buona giornata i governatori o meglio presidenti di regione chiedono restrizioni solo per i no vax quella sorta di modello austria che poi realmente non è un lockdown per i non vaccinati ma è una sorta di green pass più forte perché la differenza con l'italia è che in austria per avere il green pass non puoi usare il tampone ma per il resto è esattamente la stessa cosa quindi da fedriga a cirio da gianni a occhiuto dalle regioni arriva l'appello unanime a seguire il modello dell'austria i vaccinati hanno dimostrato fiducia nelle istituzioni e buon senso quindi davanti alla curva del contagio che continua a salire come in tutta europa e in gran parte del mondo la politica sta cercando di trovare un equilibrio anche per dimostrare che non sta sbagliando e non ha sbagliato indirizzo beh così non si vuole compromettere il natale e nessuno vuole più chiudere nessun tipo di negozio e così le misure per cercare di contenere l'aumento di nuovo della pandemia diventa ovviamente terreno di scontro perché in italia qualsiasi cosa è terreno di scontro su qualsiasi cosa si ergono i muri ideologici i problemi non sono tra leader di partito che ci sono ma sono anche negli stessi partiti all'interno degli stessi partiti c'è chi la vede in modo diverso accendono il dibattito cinque presidenti di regioni espressione del centrodestra e uno del pd quindi quattro di centrodestra e uno del pd eventuali lockdown riguardano i non vaccinati il modello è la regola in vigore in austria da due giorni ma applicata allo schema italiano dei passaggi di colore e alle relative limitazioni quindi si accusa il centrosinistra accusa il centrodestra di fare l'occhiolino ai novax e poi si scopre che i governatori presidenti di regioni di centrodestra sono quelli che principalmente chiedono il lockdown per i non vaccinati massimiliano fedriga presidente del del della regione friuli venezia giula giulia dove i contagi sono in forte risalita e è a rischio anzi molto probabile che dal lunedì prossimo la regione sia la prima ad entrare in zona gialla con utilizzo di mascherine per uscire di casa e massimo quattro al tavolo dei ristoranti pizzerie dice così fedriga eventuali nuovi chiusure non devono essere pagate da chi si è vaccinato nel caso di passaggio di colore le restrizioni si applichino ai non immunizzati dice proprio così fedriga giovanni toti alla guida della giunta ligure concorda con fedriga che è anche presidente della conferenza delle regioni e così il presidente del piemonte alberto cirio si schiera anche il calabrese roberto occhiuto la maggioranza degli italiani ha dato fiducia alla scienza non può pagare la scelta incomprensibile di una minoranza anche il presidente della regione lombardia il tilio fontana dice non possiamo imporre restrizioni ai cittadini che hanno dimostrato senso del bene comune e poi c'è l'unico di sinistra eugenio giani toscano presidente del della della regione toscana appunto ed è del pd prende la medesima posizione chi non è vaccinato non può partecipare alla vita della comunità a fianco dei presidenti leghisti e centristi e il leader di italia viva matteo renzi che dal suo profilo social apre un sondaggio non ti vaccini resti a casa che ne pensate chiede il rottamatore senatore di rignano beh e poi luca zaia presidente del veneto dice però mi sembra di anzi sarebbe di difficile applicazione anche perché da quello che ho capito io non sono un costituzionalista ma fare una roba del genere una roba sembra bersari una roba del genere ho sempre detto che non mi piace chi parla che dicendo roba del genere anche io dico roba del genere una cosa del genere credo che sia e discriminatorio e in quanto tale incostituzionale così è la mia opinione personale credo che sia discriminatorio in quanto in quanto non c'è l'obbligo del vaccino e pertanto non essendoci l'obbligo del vaccino del non del vaccino ma del vaccino non essendoci l'obbligo del vaccino come si può dire tu al ristorante ci entri solo col green pass però è già così per tutti però dire se non sei vaccinato allora beh insomma credo sia incostituzionale però potrei assolutamente sbagliarmi l'idea di anche dei governatori della lega non piace affatto a matteo salvini da sempre contrario a una stretta nei confronti di chi non si vaccina salvini dicono fonti leghiste condivide la posizione del governo l'italia non ha i numeri dell'austria il sistema sanitario regge la durata del green pass non cambia l'obiettivo è evitare nuove restrizioni da quel che filtra da palazzo chigi infatti l'ipotesi di adottare restrizioni sul modello l'austriaco non è non sarebbe sul tavolo utilizziamo il condizionale i giornali dicono non è cioè sicuro non è sul tavolo io non sarei così sicuro che non è su che non è sul tavolo maria stella gelmine però afferma questo dice nuove niente nuove restrizioni per ora quindi anche giuseppe conte dice le misure vanno dosate o la popolazione non ti viene dietro sono contrario a ulteriori stretti la situazione più serena che altrove intanto i nuovi positivi balzano a 7698 ieri bene vedremo quello che succede sembra una telenovela ogni giorno si susseguono notizie indiscrezioni vedremo quello che succederà nei prossimi giorni grazie a tutti per avermi ascoltato ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti e ricordatevi che c'è anche tele italia seconda rete dove ci sono video di politica ma non solo e poi su facebook questi video vengono condivisi dopo qualche ora grazie a tutti a presto tra una ventina di minuti se volete